La cerimonia del cambio di status della vecchia polizia municipale elevata a cerifato urbano è stata movimentata da alcune incomprensioni sorde fra il generale Massimo, dottor Gianni Serra e l'arcivescovo di Sasari, Monsignor Ioannes Francus Saba. Vediamo. Nocchiero, apri la porta! Lo scenda! Buon gioco, è costipato della sua presenza. Grazie, è più lieto di incontrarla. Assessore, salve. Sarei stato più lieto di incontrarla se non per quella piccola mancanza e l'infalibilità è solo del Papa, eh? Cioè, lo credo. Lei ero dicendo che se ci vede rigidi è per l'abbrassi. È chiaro che se mi porta una vita in testa senza il porto d'arma scatta il verbale. Ma l'incontro è stata anche l'occasione per sfoggiare le nuove unità che ha adottato lo scerifato urbano. Magari se qualche volta ce lo prestate che i nostri cani hanno tutti il naso intasato di cocaina e non si possono usare. Però che razza è? Oh yeah, questo è più bastardo di noi con chi delinque. Pensi che fiagando le fecci non rimosse dal marciapiede risale automaticamente al padrone? Beh, io entro, eh? Che cane del merda. Ti ho vintesi, questi sono i moduli, una fattura per tutte le offerte. Oh fratello, lo può chiudere un occhio? Come avete colto dalle battute, lo scerifato urbano è stato vigile anche durante la funzione. Buon gioco, buon gioco, buon gioco. Stia comoda, stia comoda, buon gioco. Allora, stavo dicendo, abbiamo verificato i certificati di fedeltà dei fedeli, però abbiamo rilevato criticità sugli ingredienti delle ostie che non sono regolarmente esposti. Per la CIA e dei canti religiosi stiamo verificando. Maggiorette, consegni un autoverbale alla signora che si fanno buttare a sola. Silenzio, composti, e prima di dare inizio alla funzione vorrei fare gli auguri al nuovo corpo d'armata nato oggi dello sceriffato urbano in capo al generale Massimo Gianni Serra I l'Inflessibile. Un'alta ufficiale recita ora la preghiera dello sceriffo urbano. San Sebastiano, proteggici da ogni bestemmia. Noi che con le palette tra i denti sequestriamo le patenti, a te ci affidiamo. Noi che facciamo giustizia contro chi butta male e immondizia, a te ci affidiamo. Noi che non chiudiamo mai un occhio, proteggici dal malocchio. La maggior parte di voi è sicuramente orgogliosa per l'appartenenza a questo nuovo corpus operandi. Dobbiamo però ricordare la nostra appartenenza al creato e soprattutto al nostro genere umano. E l'inflessibilità non appartiene alla persona umana. Per questo dico ai graduati e al Massimo Comandante Serra, vi do la benedizione però ad una condizione. Ricordate che Gesù in croce ha perdonato un ladrone. Lo ha messo al cielo e non gli ha tolto la licenza per entrare in paradiso. La divisa e l'uomo nell'uomo cristiano sono la stessa cosa. E dopo le parole del Vescovo, il Comandante e l'Assessore si sono astenuti dalla comunione. Buongiorno Comandante. E beh Assessore P, ma com'è che il Signor Vescovo... E cosa voglio che ti dichi? È facile predicare bene e parcheggiare male. Non è che se c'è la mitra in testa non ti multo. Anzi.